ma ma dove sono? e tu chi saresti? no io sono un lama non dico a te, non dico a te, dico a te, tu che saresti? beh, mi ho detto che stare colmi, ti ho teletrasportato qui solo per una cosa, per farti fare un livellone di quelli giganteschi, ma proprio giganteschi, che quasi quasi non esploderai ma di che cosa sarebbe? sarebbe di clash bandingwood, tu ti teletrasportare in un livello che poi tu saresti cattivo ma no, io non lo farei mai, quindi, quindi ciao, invece tu lo faresti? no, 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 non mi farei facinare! ahhh ben da tutti ragazzi, io sono Racco06 Games e benvenuti in questo nuovo video ragazzi, a quanto pare, questa gigantesca maschera cattiva, ci ha teletrasportato in questa isola e ci ha detto che bisogna superare dei livelli per ucciderli, tanti livelli, però non so quanti livelli siano quindi, iniziamo, iniziamo, perché avevo tante mele? cosa servono le mele? non so cosa servono le mele, è la cosa più bella del mondo e poi, ditemi cosa servono le mele, io ce l'ho, ce l'ho ehhh, yeeey yeeey mele, cosa servono, io non ci sa oh mio dio, cosa ha fatto? l'ho fatto soltare ho capito, come al solito, che per soltarvi bisogna fare hit per i vecchi per i vecchi com'è? oh mio dio cos'è quello? non so quali sono le mele che li servono, non so le mele mi hanno... no, l'ho fatto isolare oh cos'è una ch? cos'è? schiacciamolo checkpoint yeeey oh mio dio, sono una tartaruga? no, cos'è? yeeey, ma non c'è neanche bisogno che io... cos'è c'è una cassa lì? ovviamente serve... la cassa serve qualcosa ma questa non è un po' la cosa cattiva? sembra un po' la maschera cattiva questa qua ditemi se a voi non sembra perchè a me sembra no, non caduto riproviamo allora però non c'ho più la tartaruga se ne ho presso definita questa maschera sembra un po' la cattiva però corri 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 non so da quel... e se passiamo di più? cosa succede? una tartaruga fuori 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 cos'è quello? yeee l'abbiamo divinto? aspetta ma c'era un altro c'era un altro percorso di quello aia cos'era? ah è vero? perchè dovevo? vi suggero tutte le casse forse? se no non lo so e... proviamo proviamo dai e... zack però io ho paura i giocatori nooo nooo ne ho voglia di farci il bacno questo cacchollino discoso che ti serve c'entra grazie mille se lo abbiamo e andiamo a prenderlo prima di fuori se ce l'ha fatto non lo so vai, 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 ci ho fatto, ci ho fatto non devi perdere, non devi perdere, oh mio dio e qua credo che non ci siano altri fatti, ok credo di non aver dimenticato nessuna cassa andiamo a vedere, andiamo a vedere, forse non ho finito la pagina, c'è una qua, oh un rubino, cos'è, cos'è questo, oh abbiamo finito il livello 3% ho completato, ho completato il 3%, neanche il 50%, ma il 3% ragazzi cosa devo fare, caricamento isole Umba ehhh, passiamo al livello 2, forse è meglio, forse è meglio, e, 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 oh mio dio, ho perso, ho preso soltanto il 3%, neanche il 50%, lo dico il 3%, e, oh, questo dovrà, cos'è quella, una TNT, per caso, no, forse quella mi serviva per fare forse devo ammazzarla, ho morto, no è carino quando muore, oh le scarpe ah, puzzole, perché ci sono le puzzole che cadono oh, ricordo, salta, 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 e, cadi ma perché le puzzole si suicidano oh, oh, cos'è quella qua cosa sia, non ne voglio sentire parlare cosa è questa oh, bella corri, corri, corri andiamo qua due oh mio dio, stavo per morire oh, che point c'è, 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 c'è c'è, c'è 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 e non ho già tol ancora capire cosa servono le mele no, ha aperto un, un'unico, qua vabbè io ritroverò oh 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 almeno oh c'è un'altra planta di queste oh questo è un po' difficile oh cos'ha questo? questo non l'abbiamo visto prima cos'ha? un bonus? bonus! yeah! distruggiamo caccia e boh è stato facile vabbè è stato abbastanza facile solo questo bonus e cosa facciamo? resteremo qui per sempre oppure uccidiamo la planta e l'abbiamo già uccisa corri mori no mancano tre casse allora quindi torniamo indietro mancano solo tre casse per avere per avere quel bonus aio nooo nooo almeno ricomincio dal cell phone ah no ricomincio da qua aia nooo nooo vai andiamo questi sono due casse speriamo di prenderli nooo 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 vabbè andiamo avanti vabbè andiamo avanti oh ma hai mancato tre casse ah isole Umpa e andiamo al terzo livello e ma al terzo livello 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 e poi credo di concludere penso di questo episodio di Crash Bandicoot provo a farla ruotare cosa cosa che che prendiamo oh boom 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 Udga mori 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 oh 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 ah una vitezza ho capito cosa sono questo cioè ho capito cosa sono i aio e le le cose dove c'è il segno di Crash belli di lui di me stesso che suono le tue vite che bellezza avere la vita con la stessa traccia oh yeah 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 boom boom sexy point nooo nooo devo suicidarmi dovevo prendere l'Udga dovevo prendere l'Udga perchè saltando su una tartaruga forse si può volare yeah muori cosa sono qui yeah livello più difficile della mia vita oh mio dio cos'è qua c'è un umano c'è un umano c'è un umano come faccio a ucciderlo da aia no non riesco come faccio non riesco a darmi neanche una bossa proviamoci ancora una volta aia che paura pam pam oh forse ho capito salzando tante volte sopra oh oh l'ho ucciso l'ho ucciso che difficile chiudere un umano bene questa cosa è scivolosa guarda pam aia non mi pare le linguacce scimietta non mi pare le linguacce c'è di nuovo lui bam aia però riuscivo a saltarvi qui sopra perchè non si fa saltare qui ok questo è sta roba oh oh yeah il livello bonus facciamo il livello bonus oh questa volta 11 cazzo e spai anche la pnp aia no non voglio fare ci quella si prima ci servono altre 2 faccio eccola oh yeah quante mele 30 su 38 no io le ho prese tutte no capito 8 cazzo ehm vabbè ragazzi penso e credo di convincere questo episodio del Minecraft che si rimanga Scress Bandit qui spero spero che vi piaccia resta un bel mi piace e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao